Indagini serrati attorno alla banda del Bancomat che sabato notte alle 4 ha fatto saltare lo sportello automatico della Banca Popolare dell'Emilia Romagna lungo via 4 Novembre a Campobasso. La squadra mobile di Via Tiberio in attesa di spulciare tutte le immagini delle telecamere lavora già su una serie di elementi che potrebbero presto dare indicazioni precise sugli autori del colpo. Intanto c'è un aspetto, il basista potrebbe essere di Campobasso, ipotetica conclusione alla quale gli uomini di Raffaele Iasi stanno lavorando per via di quella telefonata che sabato notte poco prima delle 4, circa 30 minuti prima che avvenisse il furto, è stata fatta al 113. Una voce camuffata e con una cadenza campana chiaramente falsa da una cabina telefonica di Via D'Amato chiedeva l'intervento di una pattuglia per una rissa in corso da Polpetta in locale di Via Duca d'Aosta che il fine settimana diventa ritrovo di giovani e meno giovani per consumare una birra in compagnia. La pattuglia che arriva sul posto però di risse in atto in quel momento non ha notizie né tracce, anzi la serata di sabato si presentava assolutamente tranquilla. Ma la pattuglia naturalmente ignorava quanto in quei momenti stava per accadere all'altro capo della città. Gli agenti intervenuti hanno pensato alla fanfonata di qualche buon tempone, oggi però quella telefonata assume un altro valore. Potrebbe essere stato il tentativo di attirare la polizia sull'altro versante della città e consentire alla banda del botto di agire con avvedutezza guadagnando minuti preziosi rispetto ad un colpo che è stato studiato nei minimi dettagli. Anche se la tecnica di cui si sono avvalsi i balordi, seppure collaudata, ha rischiato di ferire uno dei tre malviventi. La pratica adottata è quella definita marmotta. Hanno infilato un panetto di esplosivo nel distributore delle banconote e poi lo hanno innescato con una miccia. Nel giro di un amen il forziere è esploso e con lui sono finite in aria migliaia di banconote di diversi tagli, circa 20.000 euro il bottino. Ma durante questa manciata di minuti, dalle immagini delle telecamere visionate finora, si nota uno dei due impegnati nell'esplosione dello sportello che viene travolto dal fuoco. I ladri però, subito dopo aver rastrellato il bottino, sono fuggiti a bordo di una macchina scura che fra l'altro era stata utilizzata per infrangere il portone principale dal quale in due Sono poi entrati per far esplodere il bancomat dall'interno. Poche rapide mosse per piazzare la carica di esplosivo, innescare l'esplosione e fuggire.